Buongiornissimo a caffè, bentornati e bentornate al... Barbasso, bentornati e bentornate al Barbasso, un po' di notizie per commentare la partita dell'Inter a freddo e la Serie A, i risultati. Prima però volevo ringraziarvi perché siamo arrivati per una delle metriche a la cifra giusta per la monetizzazione, non le metriche ufficiali di YouTube ma l'app che utilizzo un po' per misurarle, per YouTube mancano 45 ore di visualizzazione, quindi avevo previsto che sarebbe stato entro il weekend, non lo è stato ma sono sicura sarà entro il mese come la prima predizione che feci ancora in agosto. Perché mi interessa così tanto? Perché questi soldi li voglio usare per la beneficenza. Quindi ringrazio i 2781 iscritti al canale, ringrazio tutti coloro che stanno partecipando, mettendo like, commentando, condividendo soprattutto, perché veramente vedrete che faremo delle belle cose, chissà, magari un po' diverse da quelle che oggi si vedono online per solo promuovere se stessi e così fregarsene del prossimo. Ecco, credo che è giusto lanciare un messaggio diverso. Parlando, quindi grazie infinite, se potete mettete like, condividete, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Davvero, vi ringrazio infinitamente. Qui sotto c'è virgola che gioca, ma non posso spostare il telefono perché è in una situazione estremamente precaria. Allora, partiamo con un commento veloce all'Inter. Beh, l'Inter chiaramente vince e convince per le occasioni create. Forse, come giustamente dice Inzaghi, avremmo potuto chiuderla prima. Però sono 5 su 5, è una partita che forse l'anno scorso non avresti portato a casa. È un po' come il mio Vicenza che anche ieri ha vinto 0-1. Anzi, 1-0, ma ha vinto 0-1 prima. E sono partite che di solito, anzi, no, non portavamo a casa come l'Inter. Abbiamo fatto uno scatto, secondo me, proprio mentale e si vede. Quindi, per ora va bene così. Continuiamo poi a commentare l'Inter più avanti su un Empoli che ovviamente non posso neanche definirla un flop della giornata perché l'Empoli ha 0 punti, quindi siamo proprio una squadra che non ha neanche, se vogliamo, capito forse dove è, chi è, cosa fa. Forse quest'anno, dopo 2-3 anni in Serie A, si candida dopo 5 giornate a 0 punti, probabilmente con 13 gol subiti a una retrocessione. Non dico ovvia, però sicuramente probabile. Salernitana-Frosinone 1-1, Lecce-Genoa 1-0, Milan-Verona sempre 1-0, Sassuolo-Juventus 4-2, Lazio-Monza 1-1, Empoli-Inter, lo sapete, 0-1, Atalanta-Cagliari 2-0, Udinese-Fiorentina 0-2, Bologna-Napoli 0-0, Torino-Roma 1-1. Allora, sicuramente, guardando i top della giornata, devo mettere Lecce perché è vero che ha battuto solo il Genoa, solo 1-0, ma Lecce è terzo alla quinta giornata di campionato. Questo vuol dire che Lecce sta mettendo dei mattoncini enormi per la salvezza, dopo che è arrivato dalla Serie B, giusto due anni fa. Sicuramente top della giornata in assoluto è il Sassuolo, perché batte la Juventus 4-2, è vero che la batte in casa, la batte facendosi rimontare due volte, ma poteva essere un 3-2, se non per l'autogol veramente allucinante, di Gatti su Scesni, però sicuramente è stato un risultato importantissimo. Francamente non mi viene da mettere top nessun altro in questa giornata, potremmo confermare il buon momento della Fiorentina che batte anche l'Udinese fuori casa, Udinese è sempre un campetto ostico, anche sull'Udinese quest'anno non sta andando molto bene, per 1-0-2 e mi sembra sia attestata nella posizione di Europa League. Detto questo, è ancora troppo presto per fare altre analisi. Commentiamo invece i flop che mi sembrano molti di più, sicuramente il flop più grande comparato al Sassuolo è la Juventus, che prende 4 gol dal Sassuolo, una squadra che si diceva essere una filiale della Juventus. Una Juventus, aspetta che faccio uscire il pane. Una Juventus veramente spenta, con poche idee, che anche quando ha le idee arriva in fondo e non sa bene cosa fare. Si spinta un po' dai suoi attaccanti, ma anche Vlaovic si è mangiato qualche gol davanti alla porta, veramente, veramente importante. Io sono molto felice perché mi ha segnato Pina Monti, mobile pure di Marco, Zomr mi ha fatto clean sheet, ho vinto 3-0, anzi 0-3 in trasferta con una persona che aveva sia Vlaovic che Giroud, che Pulisic, che Gatti, quindi vi lascio immaginare la gioia. Sicuramente un altro flop della giornata, cioè veramente non me ne vogliano, non me ne vogliano sul serio. I tifosi della Roma perché continuano a metterla, ma è la Roma. La Roma che dopo essere state in vantaggio si fa prendere dal Torino, che li blocca sull'1-1. Cioè il Torino è una squadra sicuramente ostica, ma la Roma ha bisogno di altro per arrivare più su. E sia la Roma che la Lazio che un po' meno, perché secondo me il Monza da un punto di vista di individualità forse ha qualcosina in più da dire del Torino. Però anche la Lazio si ferma sull'1-1, quindi di nuovo le Romane che sono a metà classifica. E sì, c'è tutto il tempo perché la classifica cambi, però sì, non me la sento di levarli dai flop. Un altro paio di commenti, sicuramente il Milan vince 1-0 in una partita in cui il Verona ha creato tantissimo, ma non è riuscito a concretizzare. Insomma, beh, chiaramente la qualità in campo è diversa. Un altro flop è il Napoli. Il Napoli fa solo 0-0, col Bologna che tra l'altro si sta comportando molto bene in queste giornate, i primi giornati di campionato, ma è tutto l'ambiente. Così, man che litiga con Garciade, Laurentiis che lancia il tweet, comunicativamente molto potente, però come fai a dire ripartiamo da Bologna dopo 1-0-0? Io non ci volevano credere, non ci volevano credere le mie amiche. Sicuramente nei top possiamo anche mettere l'Inter, perché insomma 5 su 5, anche se vinci solo 0-1 con l'ultima in classifica, è pur sempre una vittoria. Ora aspettiamo l'inizio della prossima giornata di cui parleremo domani, guarderemo un attimo il tabellone. Vi ricordo solo per chi, con le barbasso di domani, vi ricordo solo per chi sta guardando, qui sotto c'è la prima causa alla quale potete contribuire, non è direttamente creata da me, sponsorizzata da me, nel senso che non sono io che la porto avanti, però ufficialmente non posso io passare i soldi di YouTube perché ancora non sto monetizzando, però se volete aiutare una volontaria bravissima che salva cani e gatti nella mia città, nella mia regione, Vicenza, è la zona più di Padova, trovate il link qui sotto, servono i soldi per un'operazione al crociato di una cagnolina maltrattata che è stata salvata. Può andare in famiglia, però prima va curata. Se vi va di aiutare Maya ho dato anche io dei soldini e mi piacerebbe lo faceste anche voi. Grazie mille, ci sentiamo domani, barbasso, iscrivetevi, ciao.